E' Crispino Sanfilippo, il nuovo sindaco del comune di Sommatino. Il neo primo cittadino ha vinto con il 52,60% delle preferenze. I suoi avversari, il presidente del Consiglio Comune all'Oscente, Angelo Vinci Guerra, ha riportato il 34,34% di voti, mentre Gianluca Infuso, di Grande Sud, si è fermato al 13,05% di consensi. Alla fine è stato premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, attraverso una campagna elettorale, direi anche ricca di argomenti, di parlare molto con la gente, la gente che si è sentita anche considerata. Diciamo che abbiamo azzeccato un po' tutto e questo alla fine ci ha premiati. Non poteva essere diversamente rispetto alla campagna elettorale che abbiamo condotto, che direi, insomma, devo dire grazie a tutti coloro si sono prodigati per questa squadra, per questa lista, devo dire che sono stati veramente bravi, ma proprio, proprio, proprio bravi. Si aspettava un risultato così forte? Ma era nell'aria per la verità, abbiamo visto che la gente rispondeva alle nostre conversazioni, alle nostre sollecitazioni, ha visto che noi eravamo persone semplici, che parlavamo anche di cose semplici, di cose normali, e devo dire che questo messaggio è stato recepito abbastanza bene. Da domani il momento delle responsabilità, quali saranno le sue priorità? Le priorità, vedere un po' le casse del comune e partire da lì. Se riusciamo ad azzerare un po' di qualcosa, avere un po' di liquidità, credo che questa speranza di vedere un futuro migliore per questo comune, credo che dobbiamo crederci, altrimenti non saremmo qui. Che apporto si aspetta dalla squadra assessoriale che ha delegato? Molto, 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 anche perché, voglio dire, abbiamo già lavorato prima insieme, per cui già conosciamo le persone, e quindi sappiamo che con la loro professionalità e con la loro serietà e con il loro impegno possiamo uscire dal guado, ne sono convinto. Tra le numerose telefonate di auguri che le arrivano, quale ha ammirato di più? Quella di una signora molto semplice, mi ha detto abbiamo votato per te, adesso pensa per noi. Questo è un messaggio grande che lo raccolgo col cuore e trasferisco anche tutta la squadra e tutti i ragazzi che devono lavorare con me, credo che siano tanti. Gattuso avrà una maggioranza in consiglio comunale di 10 candidati della lista Sommatino nel cuore. Si tratta di Salvatore Letizia, Adolfo Ambrosiano, Calogero Cellauro, Giuseppe Pirrello, Giuseppe Galante, Antonino Laquatra, Biagio Messina, Giuseppina Auria, Giuseppe San Martino e Ignazio Indorato. I cinque consiglieri dell'opposizione sono i più votati invece della lista antagonista Sommatino Rinasce e sono Giovanni Corso, Luigi Erba, Leonardo Burgio, Giuseppe Vella e Croce Renna. Grazie a tutti.